Abbiamo chiesto al Tribunale fallimentare la restituzione con effetti immediati e comunque non oltre un mese di due impianti sportivi, le caselle e quello di Pratantico, a parlare l'assessore allo sport del Comune di Arezzo, Lucia Tanti. Una dichiarazione che arriva all'indomani di due striscioni di protesta affissi al cancello dello stadio comunale. L'Arezzo merita certamente attenzione e rispetto, l'investimento che può fare il Comune, scrive Lucia Tanti in un comunicato, è quello di avere coraggio. Noi, sia per la concessione dello stadio che per lo scioglimento e la concessione all'Utichimera, lo stiamo dimostrando. L'intenzione dell'amministrazione comunale pare essere quella di dare in affidamento l'impianto di Viagoggia al Cavallino, rispondendo così alle polemiche nei giorni scorsi con un messaggio nemmeno troppo velato al Comitato Orgoglia Maranto sul bando dell'impianto Bruno Nespoli. Abbiamo mantenuto le promesse attraverso una gara d'appalto, scrive l'assessore Tanti, dopodiché l'amministrazione stessa non può rispondere di chi la vince. Se poi qualcosa dovrà essere chiarito in sede amministrativa, lo faremo con senerità. Problema risolto, forse, ma difficilmente anche dopo la partita di Team Cup, l'Arezzo avrà altri campi a disposizione oltre al Comunale e al Centro Sportivo Arrezium della nave.